Domenica 5 marzo alle 17.30 presso il centro polifuzionale di Vidor verrà realizzato lo spettacolo Sono pronta, ogni donna ha diritto alla propria vita. Ideato e scritto da Tea Righi, cantautrice e artista, coaudiuata da gruppo artistico che da lei prende il nome, il Tea Righi Project. Noi cerchiamo di seguire e dare spazio a tutte quelle che sono le tematiche e gli abitanti del comune. Per cui nel primo caso abbiamo Marichelle Barago in arte, Tea Righi, che presenta un proprio spettacolo. Nel secondo caso invece stiamo parlando di grande guerra, ricordo dei cent'anni della battaglia di Vidor. E quindi abbiamo la presentazione di un libro di Dario Bording, altro cittadino del comune. L'argomento è la violenza contro le donne, la dignità della donna. è un argomento importantissimo, anche perché ogni persona che sia donna uomo ha diritto ad essere riconosciuto nella propria degnità. E quindi il messaggio finale che vuoi dare con questo evento qual è? Credere sempre in se stessi, prendersi in mano la propria vita, non arrendersi mai. Grazie. Grazie.